buonasera e benvenuti alla nocciolina numero 11 questa nocciolina è dedicata alla corte costituzionale e voi direte ma perché ma come stavamo studiando la libertà di manifestazione il pensiero e adesso cosa c'entra la corte costituzionale c'entra perché è una di quelle nozioni fondamentali che voi dovete conoscere per capire meglio il meccanismo della libertà della manifestazione del pensiero e i suoi limiti perché noi abbiamo detto che la libertà di manifestazione del pensiero è disciplinata prevista e tutelata dalla nostra costituzione e nella nostra piramide bellissima la costituzione è al vertice e abbiamo detto che poi sotto ci sono le fonti primarie e ci siamo detti quando abbiamo parlato delle fonti del diritto che queste fonti primarie la legge e gli atti aventi forza di legge cosa fanno ovviamente disciplinano le varie materie in via generale astratta ma con più dettagli la costituzione pone solo le fondamenta le basi dopodiché la disciplina vera delle varie materie va posta con legge le leggi devono rispettare la costituzione dove troviamo noi i limiti alla libertà di manifestazione del pensiero ci sono delle leggi che stabiliscono che cosa quali sono i comportamenti vietati cioè nella costituzione noi troviamo l'articolo 21 che ci dà la libertà di manifestazione del pensiero dopodiché noi ci siamo detti che però non si può dire tutto ciò che si vuole ci sono chiaramente dei limiti limiti che sono imposti per tutelare altri interessi o interessi individuali o interessi di natura pubblicistica come si fa però a porre dei limiti alla libertà di manifestazione del pensiero molto semplice ci sono delle leggi che vietano determinate espressioni determinate manifestazioni c'è il codice penale che prevede dei reati per chi dice delle cose particolarmente brutte ma poi ci sono anche altre leggi che semplicemente prevedono dei divieti con sanzioni più piccole rispetto a quelle che può essere una sanzione penale ma comunque vieta determinati comportamenti è questo il modo in cui poi effettivamente sono stabiliti i limiti alla libertà di manifestazione del pensiero così come a tutte le libertà previste nella costituzione come si fanno poi ad attuare la costituzione ci sono delle leggi che pongono discipline specifiche per ogni materia e però noi abbiamo detto che la costituzione è il vertice chi sta sopra vince sempre su chi sta sotto sì ma come fa a vincere se c'è una legge che stabilisce un divieto che però è contrario alla costituzione come si fa a far vincere la costituzione come funziona se avete letto la nostra costituzione lo sapete perché perché nel nostro ordinamento così come in tanti altri ordinamenti c'è una corte costituzionale la corte costituzionale che io spero voi abbiate sentito nominare almeno qualche volta è proprio l'organo e dunque una corte un giudice che giudica se davvero le leggi e gli altri atti aventi forza di legge che voi ormai conoscete cioè decreto legge decreto legislativo eccetera se questi atti primari effettivamente sono conformi alla costituzione e se trova che qualche legge non rispetta la costituzione che fa? ZANG! Annullata quella legge non c'è più quella legge viene eliminata dal nostro ordinamento ok quindi c'è una corte costituzionale che giudica la legittimità costituzionale delle leggi e quindi decide se una legge è conforme a costituzione oppure no questo è sempre per garantire un ordinamento democratico perché noi abbiamo il parlamento che si è espressione del popolo però magari il parlamento può capitare che ogni tanto emana qualche legge che insomma non va proprio bene capita ma non solo può capitare che il parlamento emana una legge negli anni 50 e poi magari dopo quella legge insomma con l'evoluzione sociale non ha più molto senso non è più corrispondente a quella che è la costituzione materiale vivente in un altro momento storico e se non ci pensa il legislatore ad abbrugare con la legge ci pensa la corte costituzionale quindi la corte costituzionale è il giudice che giudica le leggi e stabilisce se rispettano la costituzione o se non la rispettano e se non la rispettano via eliminate ok allora è molto importante che voi conosciate un minimo il funzionamento della corte costituzionale perché perché noi quando andremo a studiare tutti i limiti che si possono imporre alla libertà di manifestazione del pensiero noi faremo molto spesso riferimento a sentenze della corte costituzionale perché noi abbiamo detto che l'unico limite previsto in costituzione è il buon costume ok e innanzitutto servono delle leggi che ci dicano in maniera un po più chiara che cos'è questo buon costume perché insomma per mia nonna andare al mare in bikini era contrario al buon costume secondo la morale di mia nonna ma secondo voi può essere un limite al buon costume andare in spiaggia in bikini ovviamente oggi no però all'epoca lo era e chi ce lo dice cos'è oggi il buon costume dobbiamo sempre fare riferimento alle sentenze della corte costituzionale perché sono loro che giudicando delle leggi che impongono dei limiti ci dicono che cos'è il buon costume sempre riferito alla attualità della società allora stavamo parlando della corte costituzionale che è organo fondamentale nel nostro ordinamento costituzionale perché appunto garantisce che le leggi di disciplina generale delle materie siano conformi alla costituzione se avete letto come vi avevo chiesto la costituzione saprete che la nostra corte costituzionale è disciplinata all'articolo 134 della costituzione che allora non lo aveste ancora fatto vi invito a leggere l'articolo 134 infatti vi dice che la corte costituzionale giudica sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge quindi la costituzione è proprio l'organo che è deputato nel nostro ordinamento a garantire che la costituzione venga effettivamente attuata e rispettata dalle leggi come è composta la corte costituzionale perché ovviamente deve essere un organo che giudica le leggi fatte dal parlamento e allora però il parlamento romana dal popolo e poi le leggi una volta attuate sono anche promulgate dal presidente della repubblica che quindi effettua una sorta di controllo anche se light ma effettua un controllo sulla legittimità delle leggi e poi comunque devono giudicare sulle leggi che devono applicare i magistrati quindi è un organo molto delicato che ha un compito molto molto difficile e delicato e allora cosa si è pensato si è pensato di fare in questo modo la corte costituzionale è composta da 15 membri che sono nominati 5 5 e 5 da tre differenti poteri dello stato di cui abbiamo parlato in una nocciolina precedente 5 giudici sono nominati direttamente dal presidente della repubblica altri 5 giudici sono nominati dal potere legislativo cioè dal parlamento e gli altri 5 giudici sono nominati dal potere giurisdizionale cioè la magistratura le alte magistrature nominano e leggono i propri membri all'interno della corte costituzionale per cui nella corte costituzionale giungono giudici nominati da diversi poteri dello stato in modo da garantire un equilibrio sotto tutti i punti di vista la composizione della corte dovrebbe esservi nota anche perché pochissimo tempo fa finalmente per la prima volta nella storia italiana il presidente della corte costituzionale è una donna per la prima volta ci siamo finalmente arrivati chi è andatevelo a cercare perché poi ve lo chiedo ve lo consiglio andatevi a cercare la notizia allora vediamo come funziona come fa la corte costituzionale a decidere quali leggi sono costituzionali o meno io vi voglio fare un esempio concreto pratico in modo tale che voi possiate capire a grandi linee in maniera un po semplificata come funziona un giudizio della corte costituzionale ok nel nostro ordinamento vinge un codice penale abbiamo detto che molte sentenze sono perché perché ci sono norme penali che vietano determinati comportamenti e vengono portati dinanzi alla corte costituzionale dei giudizi perché qualcuno ritiene che questi divieti siano contrari a una norma costituzionale ad esempio nel nostro codice penale così come era originariamente formulato c'era l'articolo 559 che era dedicato all'adulterio l'adulterio è quando tra marito e moglie si fa qualche cornetto diciamola così ok allora un marito una moglie si tradiscono perché hanno una relazione extra coniugale detta in maniera un po più elegante allora che succede quando qualcuno si tradisce voi direte ci si lascia oppure si litiga oppure qualunque altra cosa sì anche il problema è che fino a poco tempo fa l'adulterio era reato era un reato cioè si poteva addirittura finire in galera ma tutti e due marito e moglie no fino a poco tempo relativamente poco tempo fa dipende dai punti di vista comunque il nostro codice penale prevedeva la moglie adultera è punita con la reclusione fino a un anno e addirittura se non era una scappatella di un giorno ma era proprio una relazione extra coniugale si arrivava fino a due anni per la moglie adultera il marito no era il nostro codice penale articolo 559 del nostro codice penale è servita una sentenza della corte costituzionale nel 1968 ok 50 anni fa un po di tempo fa ma non tantissimo non è tantissimo tempo fa pensateci fino al 1968 esisteva questa norma ma la corte costituzionale come ha fatto a dire che era sbagliata perché da un punto di vista morale insomma come dire spero che siamo tutti d'accordo sul fatto che una norma del genere sia profondamente sbagliata perché punisce la donna adultera e non l'uomo adultero siamo tutti d'accordo spero sul fatto che sia sbagliata ma da un punto di vista morale come facciamo a dirlo da un punto di vista giuridico che è illegittimo perché è contrario alla costituzione bisogna trovare una norma della costituzione che viene violata da questa da questo reato del codice penale e secondo voi qual è la norma del codice penale violato in questo caso spero che qualcuno sia arrivato almeno a leggere fino all'articolo 3 della nostra costituzione perché l'articolo 3 della nostra costituzione vieta qualsiasi tipo di discriminazione basata sul sesso l'articolo 3 dice che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge senza distinzioni di sesso di razza di lingua eccetera 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 ok quindi è il principio di uguaglianza il divieto di discriminazioni in base a quali a qualsivoglia criterio discriminatorio e quindi la corte costituzione disse beh ma qui c'è chiaramente una violazione del principio di uguaglianza del divieto di discriminazione in base al sesso perché la moglie è punita e il marito no e poi c'è un altro articolo della nostra costituzione che è stato violato da questa norma è l'articolo 29 che è dedicato alla famiglia perché l'articolo 29 dice che la repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio ok e poi dice che il matrimonio è ordinato sull'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi per cui la costituzione stabilisce l'uguaglianza giuridica fra i due coniugi e la corte costituzionale disse questa norma del codice penale chiaramente è disuguale tra i due coniugi e quindi è stata eliminata oggi si può tradire allegramente certo avrete un problema di coppia ma perlomeno non andrete in galera ora se vi sembra tanto lontana questa sentenza perché è del 1968 e quindi l'idea vabbè all'epoca insomma diciamo se non vi sembra una cosa abbastanza evidente come condizione giuridica della donna per cui nel nostro ordinamento ancora non era stato riconosciuto una piena parità dei diritti fra uomo e donna bene vi lascio solo con un ultimo pensiero da pensare che fino al 1996 quindi diciamo tempi recenti voi eravate quasi nati ok quindi abbastanza vicina fino al 1996 pensate un po che lo stupro era un reato contro la moralità e il buon costume voi sapete nel codice penale ogni reato viene definito anche in base a qual è il bene giuridico che viene violato il furto è un reato contro il patrimonio chi vi ruba vi va a intaccare il vostro patrimonio ok lo stupro era definito fino al 1996 un reato contro la moralità contro la pubblica moralità pareva brutto era un reato contro il buon costume solo dal 1996 è finalmente diventato un reato contro una persona cioè chi stupra commette un reato che danneggia la persona non la morale sociale così tanto per darvi un'idea tutto ciò e soprattutto la definizione di buon costume noi la andremo a ricostruire grazie a numerose sentenze della corte costituzionale che hanno definito quali sono i limiti alla libertà di manifestazione del pensiero che possono legittimamente essere imposti e quali limiti invece sono contrari alla costituzione e quindi non si possono mettere e quindi è per questo che oggi vi ho parlato della corte costituzionale bene finita la nocciolina numero 11 ci vedremo presto con la nocciolina numero 12 nel frattempo mi raccomando restate a casa non andate neanche a fare una passeggiata solo ciò che è strettamente indispensabile così che tutto ciò speriamo possa finire presto buona serata grazie a tutti